Ok, Andre ci sono io, vuole fare l'asinchro? Ti disattivo così fai l'asinchro Eh dimmi tipo di parla ora, io tipo parlo e tu senti in questo modo qua Chi sei Giulio? Sì Andre, probabilmente si sta giocando a Star Wars, Giulio si è addormentato Andre, aspetta, sono pronta per registrare Un po' di tetto al vento Sì Finalmente Andre, oggi sarò esplosiva nel tuo gameplay Boom No, adesso dobbiamo dormire Andre Tutti quanti vogliono dormire Hai visto che è entrato nel tricert e che sono? Posso andare? Aspetta Andre, devo farti vedere l'osso della costata del cazzo Dove l'hai messo? Dov'hai l'osso? Ma chi è che non sta dormendo, regà? Io sto dormendo Ah, guarda Andre Io sto dormendo Prima gli ho dato un osso così a Zack della costata, guarda cosa è rimasto Posso indovinare chi non sta dormendo Era Giulio No, dai, chi è che ha dormito nel mio letto? Ehi, c'erano tutti i ciotolini e bentornati in un nuovo fantastico video Chi ha dormito nel mio letto? Giulio, t'ho visto, adesso lo dico a Sash Andre Eh Giulio ha dormito nel mio letto matrimoniale E quindi? E quindi non si fa dovevi diglielo Beh, avete già sentito dalle loro voci quella che starnazza Sabrina Benvenuti amici in questo nuovo video Sono Sabrina l'animatrice E ci sono le mutande che mi danno un po' fastidio Toglili tanto è solo visual, tranquilla Ok Poi benvenuto a colui che ha fatto appena adesso il progresso Copritemi di diamanti Non capisco di dove stia parlando Andre non puoi capire cosa è successo L'altro giorno non stavo registrando Ho preso un pezzo d'autoratura e mi ha fatto Hai compiuto un progresso io Oh no Sentite, non era quella Ehi È il mio troppeno di esposizione della live questo Non so di dove stia parlando Beh, comunque un benvenuto anche a Giulio che è molto presente Ciao Giulio Ah, che gioia Sempre migliore Raga, qualcuno mi regala un'armatura di ferro Che ho finito gli stivali e l'elmo Era di diamante una volta fa È l'unica persona che ci mette dieci minuti a prendersi l'armatura Guardala A posto E lo prende un pezzo alla volta perché, vedi Andre non so rimettere l'armatura al suo posto Eh vabbè Cosa devo premere? Che ne so io Vabbè te la lancio per terra, mettetela voi Capisco Ho solo due o tre pezzi perché il casco mi serviva Allora, vediamo un po' Il video è iniziato da ben tre minuti e trentotto E io ho già due vetri spaccati Probabilmente l'orto che sarà distrutto E ho perso un armatore di diamante Che carino il vetro Però aspetta Grazie Andre così non cado più L'ho fatto solo perché i ciotolini hanno detto Fallo perché se no Sabri muore Ma io morivo sempre perché quando salivo da qua che non mi ricordavo Chi è stato? È Bloti Andre mi presti del cibo? Te lo ridò poi Eh nella cassa dove attingono tutti Grazie Nella cassa comune Esatto Beh Giulio Eh? Cosa facciamo oggi? Spiegaci Non lo so Giulio sta dormendo Ci penso io Posso fare io Andre? Ma io volevo Giulio Allora oggi Sarà l'episodio dove andremo a creare Il portale del nether Con la Cirincite Quella dello zolfo Della lava che ci mette l'acqua E Ossidiana Mi è venuto Ossidiana E quindi creeremo il portale Perché poi potremo andare nel nether A prendere tutti gli animali No gli animali I materiali che ci mancavano Perché Pietro ha una Un'armatura di diamante Non capisco di cui stia parlando Soprattutto perché Chi è che ha decapitato la mia armatura? Almeno rimettetela intera E non ce l'ho Andre Il cascetto non ce l'avevo Ho preso in prestito Quello che c'era attaccato Vabbè Quindi Ricapitolando Siamo pronti Siete già tutti pronti Non so Noi l'abbiamo fatto il piccone di diamante Tu l'hai fatto Andre Se da piccone non si va Non dire il piccone se non ce n'è nel sacco no? Allora L'acqua Andre Poi gli stichi Andre l'acqua Gli stichi Andre l'acqua L'hai presa l'acqua Tra casa mia e casa di Andre Toc Ecco E toc Andre Dica a me Hai deciso la canzone Per quando faremo i tuoi video? No Da cantare come inno di battaglia? Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap E aspetto a quello sediana Sei in post produzione Andre Non metti la musica sotto Mi arrabio tantissimo Si Ma dove stiamo scendendo? sono tra casa di andrea e casa mia aspettarvi arriviamo arriviamo ma infatti non so chi ha fatto sto buco andrea si è stato tu è il primo buco che hai fatto tu quando siamo arrivati sapi bene anche si ricorda andiamo di qua va si chiama giulio una da una parte una dalla aiuto andrea seguiamo il pro dai ti piace la mia carota d'orla che ho trovato da sola andrea non l'ho presa nel tuo orto ma sai che io ho fatto quelle carote non ne ho ancora usata una sono tutte lì ancora sì no per niente fermi vi ho perso Bisogna scendere sabri c'è un buco di scendere Andrea sei pronto a cantare la canzone con me? Popo ropa Popo ropa popo ropa Mi raccomando raga è importante scavare col piccolino in diamante vai go via Quanti blocchi ci servono andrea se facciamo così mezz'ora vai posto altra mezz'ora Finito direi che non si accorta di niente raga c'è la lava mettetemi un secchio d'acqua qui se ce l'avete Ok grazie Sabri non si è accorto di niente Vetro di drago è giulio cosa stai facendo stai morendo Giulio come hai fatto a morire posso uscire Ma perché sei affogato Occhio Occhio Chi c***o mi spinge? Raga ma cerchiamo un altro posto dai Ma un altro posto è un qualsiasi posto è uguale Dove c'è barino c'è casa E come si fa a votare la lava? Non lo so io ce ne ho due Vediamo un po' chi non sta facendo niente Quante ossidiana c'hai sabri? Zero ma perché io non so Chi mi toglie il creeper che sono senza armatura per favore? Eh io ce l'ho di ferro ruolo Grazie Fatto Scaviamo l'ossidiana Non passare davanti alle persone che scavano Sennò mannulli 10 secondi di scavo Non ho fatto apposto Io si Eh vabbè quanti blocchi Cioè il mondo è cubo Siamo raga andiamo a vedere cosa possiamo creare Dai go Cosa riusciamo a creare? Io voglio fare l'ultimo così arriva cifra tonda Ma perché lo aspettiamo Pietro ogni volta? Me lo spiegate? Dai raga per far due risate mamma mia Guardala c'è fa da sola Pietro Non serve che tu la blocchi Si blocca da sola Sabrina Non siete simpatici Ti blocchi apposta tu? Dai cosa mi avete fatto? Guardala No uno di noi deve andare a dormire Andre vado in casa tua Voi siete pronti a sloggare? Vai vai vieni in casa mia Sei già tu? No La porta è chiusa Stai dormendo Sabri? Secondo non sono ancora in casa tua Io sto dormendo io Cavolo questa non è una casa Dove stai andando? Dai Andre dammi il letto Ciao ne Sì sì Io ti sconnetto Ma perché Arrivo io amico Spam Eh sì è morto Aià Però quella strega la andiamo a porcare di mazzate Mi guarda malissimo Guarda Mi ignora Si crede superiore Guarda Vai Andre vai avanti Ho sgamato Ho sgamato Dai allora Ho preso me ho preso Non ci credo Ti rimbalziamo Vai vai Ma chi è che mi picchia? È il veleno Io mi sa che muoio dal veleno se qualcuno non mi butta del cibo Aiuto Ho buttato una carota Anzi quattro Prendile Mi serve più cibo Vai ti ho buttato quattro carote Ok Sono piano Oh ma sta sbomato Lascia stare il mio amico Bravi Dieci eravate Sabri ci ha fatto morire Io non ho mai capito quando un creeper No 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 Terra Bravo Quando un creeper esplode o no Eh adesso è esploso Vai Giulio È bellissimo Dai che schifo è sta copertura Oh Sabri prova a indovinare dove è esploso il creeper Dai raga andiamo a creare il portale Venite con me Vicino o lontano da casa Siamo a posto allora No lo facciamo qua vicino Vicino stai andando un chilo Si sta allontanando È vicino a casa tua non a casa nostra Ho idea vedete come guardate so correre ora Ma cosa dire ora Guardate Guarda e così voli Facciamolo qua raga Possiamo togliere il mio amico Troppo fastidio i semi Ah pensavo Pietro Beh anche lui Andre forse non lo sai serve un acciarino Ah devi fare un acciarino Vado a fare un acciarino Mi fido di voi Giulio Qua guarda il mio nome Tieni lì d'occhio Giulio Dove sei Giulio? Qua Vedete c'è questo buco Perfetto togliamo per favore i pignoli che mi danno fastidio I pignoli? Qua sono le persone È una specie Ho visto fra un pignolo e un pignolo È un pignolo pignolo Allora mettiamo selce Lingotto e acciarino fatto Sono super acciariato Bravo Grazie C'è la carica Nooo Ho dato fuoco Come si spegne Ok fatto Quanto pare Sabri Non mirare la sabbia con l'acciarino Bravo Hai dato fuoco la A casa tua Sì Raga ma è pieno di pignoli Nooo Dai basta Io li odio quelli Sono odiosissimi Venita a distruggere un po' di pignoli qua Ahahahah Una roba importantissima Il titolo del video si chiamerà noi odiamo i pignoli No dai Non prenderlo Ma cos'è che sta facendo? Aspetta una roba importante Ma togli qualcosa Ma roba importante Ma cos'è? Sabri perché sei ferma Sabri O ti stellevano i vestiti Ed è accettabile Se no no Aspetta Ma gli posso dare fuoco Giulio? Ma chi? A Sabri si Ma perché devi dare fuoco? Un secondo Giulio? Andre veramente sto facendo una cosa Dai Che non ho le mani sul mouse Dai sto morendo T'ho ruoto l'acqua Nooo La mia acqua Lascemi l'acqua Eccomi raga ho fatto una cosa importante Si tanto lo stiamo registrando Vai tranquillo Aspetta non vedo niente raga No mi sa sono i driver No raga non lo lascia dai Ok possiamo continuare Non fa ridere questo Il contributo di Sabri Aspetta Pia aspetta 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 Dai nooo Deveva costruire il portale Sabri Si ma non addosso a me il portale Sabri stai rimando contro Sabri Daiiii Allora Sabri non dobbiamo perdere il tempo Daiiii Ti sto aiutando gli amici Dai basta Ma è striscia da sotto Sabri ti ho aperto Ma è striscia da sotto Vaiiii No raga sto uscendo da sopra Mamma mia si vede che aveva dei pignoli lei Vabbè adesso avete spiegato lo sediano e va ricucita ancora una volta Si rompe lì Guardate cosa ho usato per saltare in su Una ducca Avevo solo quella Avevo solo quella Ah sei imbarazzante Solo quella avevo Visto Giulio Ehiho Uffa nessuno mi segue Non ho capito Ehiho Ma come non hai capito Hai in 7 anni Andiam Andiam Niente Si è ribloccata in buffering di nuovo No sta cercando di coprire il buco Fra l'altro le ha messe stortissime Vabbè stavo solo andando in giro Forza raga Che come se non finissero mai queste torte Forza raga Ma quante ne hai messe Sabri Più grande Pietro Ha preso inizia Ha preso iniziativa lui Abbiamo detto Prendiamo 1800 blocchi per farlo grosso Non è andato minuscolo No Siete pronti? Vi dargli fuoco A 15 eh 14 13 Dai Andri Aia Vado Primo 3 2 1 Dai Ma devi entrare Non ne vedremo mai Si Che vuoi Ha 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 Ho entrato sui primo Tu dove ce l'ha fatto Aia No 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 Che è quel coso? Sono già a fuoco Perché vado a fuoco? Ehi Spiegatemi Io non sono un nederiano Non si può usare l'acqua nel neder raga Lo sputo? No Tu sei sei quello si Ehi Giulio ci sono diti Ehm Ah ma c'era com'è? Ah Sapete che se si rompe il portale non posso più tornare Raga ho un cuore Non dire il cuore Ho un cuore Andre Li vedi gli uomini maiali? Si Se gli attacchi ti danno l'arma quando li hai uccisi Sapete che se si rompe il portale non possiamo più tornare a casa Raga Per piacere sto giocando racchettoni con la nuvola Vai Servi tu Raga No no Ma chi è che si nasconde dietro il portale? Chi è il genio? Io glielo ho rimandato intanto Vai giochiamo a racchettoni Iniziamo 2-1 per lui Vai servi tu Vado Vai Licio Punto la nuvola Nooo È sparita Ma chi mi hai fatto cadere la lava addosso? Ma chi sono questi? C'è un tito che mi guarda malissimo Ah è abbassato lo sguardo No mi sta riguardando malissimo Abbassa lo sguardo Ok ragazzi dopo mille problemi dovuti a Pietro non ha nessun altro perché solo lui fa casino nei nostri video Siamo riusciti ad entrare nel nether Adesso vi lascio qui e noi andiamo a cazzeggiare Andre aspetta devi dire che hai lasciato il mio canale in descrizione per iscriversi Non ci penso neanche Anzi vi lascio solo quello di Giulia perché è l'unico che ha fatto qualcosa Yeeeeh Io sono rimasta intrappolata nella volta rossidiana E tu sei scarsissima Comunque Giulio, Pietro e Sabrina vi salutano Ciao 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 Puzzoli Becca Ciao 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 Ciao